Mi aspetto una battaglia, mi aspetto un derby, mi aspetto una guerra nel senso più facile della parola perché è una squadra che è partita con ben altri obiettivi si ritrova in questa situazione, ha la possibilità di scavalcarci e sicuramente ci dobbiamo aspettare una partita intensa, una partita cattiva, una partita alla quale dobbiamo essere assolutamente pronti perché se non dovessimo andare in campo con queste sensazioni potremmo avere delle difficoltà. Quanto è stato difficile di costruire il morale del gruppo che avrà accorto complimenti, attuali? Io sono molto incazzato, ho espresso a loro molto la mia arrabbiatura perché dopo una prestazione del genere seppur nessuno l'ha evidenziato, ma anche il gol sul corner era fuori gioco, era fuori gioco di ripa sulla traiettoria. Quindi seppur con un rigore secondo me inesistente, quindi i cinque gol sono reali sulla carta e fanno sembrare una partita diversa da quella che è stata, però noi non possiamo venire fuori da una partita del genere con cinque gol sul gruppone, è un problema che ci portiamo dietro, è un problema di applicazione, di concentrazione. Certi giocatori devono tenere fede alle consegne che lo staff gli dà prima della partita e molte volte nei momenti culmine della partita queste per gioventù, per distrazione, per una mancanza di applicazione vengono disattese e poi ti trovi a dover prendere la palla in porta. E quindi questo ci sta complicando la vita, dobbiamo crescere in fretta, capisco la gioventù di gran parte di questa rosa, però dobbiamo crescere in fretta perché prendiamo dei gol che assolutamente non dobbiamo prendere, soprattutto considerando quello che studiamo durante la settimana. E questa è la cosa più, perché c'è una crescita, è vero, c'è una crescita esponenziale dal punto di vista del gioco, c'è una crescita dal punto di vista della squadra, però nello stesso tempo non possiamo, non dobbiamo pensare di poter vincere le partite solo se facciamo due gol o tre gol, perché le partite si vincono anche 1-0 e in questo momento le partite che abbiamo vinte le abbiamo vinte perché abbiamo fatto due gol e tre gol. Quindi questo parla chiaro sul fatto che noi dobbiamo tenere una tensione emotiva e agonistica importante perché buttare un tempo come abbiamo fatto il primo tempo e comunque continuare a giocare, avere altre occasioni con Ciccio Scarpa, con Maiorano e poi portare a casa cinque gol, a me dei complimenti me ne frega relativamente perché poi buttiamo a mare il lavoro che stiamo portando avanti. Sì, ho visto che il tempo ha trovato un po' di equilibrio e di difesa, inoltre cambiando molto. Allora, questo dato è venuto in meno, è un solo impatto. Non abbiamo mai visto dal primo minuto, ad esempio, qualche corpo, una fascia laterale, qualche giovanotto di colore, che non abbiamo mai visto dal primo minuto per dare un brillo e quindi imprevedibilità per fare il prossimo tempo. C'è esperanza per il club? Non so a chi si riferisce come il giocatore di colore. Gamba. Baxson. Baxson deve impegnarsi molto. Baxson deve capire che questo non è un campionato primavera. ha avuto due possibilità di entrare e non mi ha dato quello che desideravo, dal punto di vista proprio per le caratteristiche che ha. Quindi i giovani devono crescere, e ne abbiamo tanti, hanno giocato quasi tutti, anche Baxson, ma devono crescere in fretta, devono essere loro a avere una crescita esponenziale e avere anche grande capacità al sacrificio. Nessuno allenatore è stupido, se Baxson io aspetto tutti, però è giusto che in questa posizione di classifica devo avere dei giocatori che mi danno maggiori garanzie. Dal punto di vista dell'attacco, credo che proprio in questo momento due partite e cinque gollo fatti, credo che sia il reparto invece che sia cresciuto maggiormente rispetto, mi preoccupa più il discorso difensivo che abbiamo preso sette gol in due partite più che il discorso dell'attacco. Sta crescendo Regolanti che ci dà una grossa mano e ripeto, io aspetto tutti e si allenano tutti al massimo per poter avere quello che interessa in questo momento per dare, come dice lei, imprevedibilità. Quindi non dipende da me, dipende dalla loro crescita, dalla loro voglia di giocare a Pagani alla morte e di farmi vedere che sono pronti per un campionato di Serie C come è questo. Ma in questi campionati se parti male poi fai fatica a venerne fuori, però il valore della Casertana è una squadra che ha sbandierato all'inizio del campionato la possibilità di fare i play-off, che ha dato il ritiro punitivo, che ha cambiato allenatore subito, che sta trovando adesso una sua dimensione anche di modulo, anche se ha cambiato spesso ultimamente dal 3-5-2 al 4-3-1-2 e secondo me cambia molto anche in previsione di quello che fa l'avversario. Però è una squadra che ha dei valori, ha dei valori che verranno sicuramente fuori e io spero che vengano fuori dopo la partita con la Paganese. In questo momento chiunque arriva sta sopra noi, nel senso che, voglio dire, quindi tutte le partite sembrano... Sì, però a volte anche il nome, però tutte le partite, anche il Monopoli all'inizio sembrava che fosse una squadra che non potesse aspirare e poi detto da loro, detto dagli addetti ai lavori, abbiamo preso niente rispetto a quello che abbiamo profuso perché anche ci mancano sicuramente i due punti del Monopoli. Quindi questa squadra, la cosa che mi fa pensare è che comunque gioca contro tutti e gioca con tutti, però la cosa, come hai detto te, che mi fa così, che mi manca quella personalità, quel carisma, soprattutto dietro, che ci consenta, e quando parlo di carisma parlo proprio di guida della squadra in momenti delicati, che ci consenta di non prendere dei gol, perché io non dimentico che abbiamo vinto a Siracusa, però alla fine comunque siamo andati via con... abbiamo rischiato di pareggiare una partita che avevamo dominato, ha detto anche loro, quindi voglio dire, è questo che mi preoccupa, questa fragilità caratteriale, questa mancanza di carisma che non possiamo trasmettere da fuori con tutta la voglia e tutto, perché poi in campo ci sono dei giocatori che devono trasmettere questa cattiveria agonistica, questo carisma, devono venire fuori in queste situazioni e soprattutto dietro ci manca ancora, perché comunque stiamo giocando con due giocatori giovani, ci manca quella capacità di trasmettere ai compagni grande serenità, non parlo voglio dire di leader carcione o di scarpa che comunque stanno facendo il loro, ma parlo proprio di giocatori che in questo momento giocando dietro con un 97, 98, anche con due 95, comunque devono crescere in fretta, devono crescere in fretta, perché se no abbiamo questi problemi che sicuramente si potranno mettere a posto a gennaio, però in questo momento noi dobbiamo pensare di continuare, di arrivare in una crescita esponenziale per cercare di limitare questi errori, perché non è, ripeto, Catania e Siracusa, non sono due partite dove, a parte gli errori arbitrali che sono i diventi, possiamo andare a casa con sette gol. La Carini ha avuto adesso un problema suo personale, l'abbiamo dovuto fermare per deniare delle analisi, adesso sicuramente si rimetterà a posto, è un giocatore che ci deve assolutamente trasmettere quello, dopo Piana e Meroni stanno comunque fornendo dal punto di vista della fisicità, delle buone prestazioni, devono crescere dal punto di vista della personalità per poter da dietro guidare di più i compagni, ma queste sono cose, stiamo parlando sempre di un 97, di un 94, che ultimamente hanno giocato pochissimo, e quindi secondo me la loro crescita può solo venire giocando. Mister, da qui alla sosta post-Natalizia ci sono altri 5 terapie, non ti conto, è chiaro che un allenatore faccia un bilancio, qua, un po' maggiore, non abbiamo in posizione, lei in corso, non sa già dove bisogna intervenire, soprattutto con quanti punti di lancio? Ma noi ci confrontiamo sempre con la società, il Presidente è una persona troppo esperta, anche lui valuta benissimo tutte le situazioni, quindi sicuramente le idee sono abbastanza chiare, ma in questo momento dobbiamo andare avanti con un gruppo che, ripeto, sta crescendo, sta crescendo anche dal punto di vista morale, nella consapevolezza, mentre prima, sai, da alcune prestazioni un po' altalenanti potevamo pensare di non essere proprio, diciamo assolutamente all'altezza di questo campionato, in questo momento, io devo dire che adesso stiamo dimostrando in tutte le prestazioni, compreso col Francavilla, con il Rende stesso, che abbiamo preso meno di quello che potevamo prendere con una prestazione non all'altezza, che in questo campionato ci possiamo stare e ci possiamo stare bene. Dobbiamo limitare, e non lo posso dire in conferenza stampa, a certe situazioni, perché poi le statistiche dicono che prendiamo un certo tipo di gol e quindi questo è un difetto reale che dobbiamo curare. Dinnelli è sicuramente fuori, Picone stiamo valutando questa caviglia che ancora gonfia, ieri ha incominciato a allenarsi su dei campi di direzione, vediamo se può essere della partita.